Lavoro è caldo estremo, coniugarli spesso è difficile se non impossibile. Da giorni ormai le temperature sulla penisola in Molise sono ben oltre i limiti della sopportazione e i lavoratori ne pagano le conseguenze. Smettere di lavorare può essere un pezziero ricorrente, ma si può fare? Ricordiamo che tra gli obbligi di chi fa impresa rientrano la tutela della salute dei lavoratori e il microclima nei luoghi di lavoro. Anche la Cassazione, infatti, ha riconosciuto al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione nel caso di temperature proibitive. Nell'ultima sentenza disponibile, risalente al 2015, si è pronunciata positivamente in merito ad un caso di alcuni lavoratori che a causa del freddo eccessivo si erano astenuti dalle proprie mansioni. Prevesso questo, bisogna sottolineare che, in generale, non esiste una temperatura limite stabilita per legge che consenta ai lavoratori di fermarsi. Bisogna considerare caso per caso. La soglia riconosciuta dall'Inps, invece, è quella di 35 gradi per richiedere la cassa integrazione ordinaria, una possibilità che, a quanto pare, raramente viene presa in considerazione. Nonostante la condizione climatica estrema di questi giorni, sia da fonti sindacali sia da Confindustria, confermano che non ci sono realtà in Molise che abbiano manifestato la volontà di bloccare le attività o di ricorrere alla cassa integrazione a causa del grande caldo. I comparti più esposti sono sicuramente quelli dell'edilizia e dell'agricoltura, ma in tutti e due i casi le imprese si sono organizzate rimodulando carichi di lavoro e, soprattutto, gli orari iniziando molto presto al mattino.